A Santa Marina, al corso di formazione sullo spettro autistico, erano presenti docenti, giornalisti, professionisti nel trattamento dell'autismo, educatori e genitori. Per David Vagni, ricercatore e vicepresidente dell'associazione Spazio Asperger, è importante come viene presentata la diagnosi ad una famiglia, perché non è una condanna a morte l'autismo. Dipende da come viene ricevuta questa diagnosi. Ci sono genitori che sospettano da sempre magari dei comportamenti atipici nel proprio figlio, che si informano, vanno da un eventuale medico, psicologo, con le idee già chiare. Spesso la diagnosi può far male, ma alla fine è solo una conferma. Ma molti altri genitori vengono magari inviati dalla scuola o dal pediatra o arrivano per altre vie. E quindi ricevono la diagnosi come una condanna a morte. Ma questo non è vero, non è una condanna a morte l'autismo. E un professionista penso che debba realmente farsi carico del modo in cui presenta la diagnosi alla famiglia, delle speranze e delle aspettative che dà, e indicare subito chiaramente quali sono i metodi di intervento efficaci e cosa la famiglia può fare, senza sostituirsi a lei nella scelta. Io penso che l'ultima cosa, un problema che c'è oggi è il fatto che molti servizi pubblici non emettono diagnosi o non spiegano fino in fondo quali possano essere gli interventi migliori per il bambino perché non sono accessibili a livello pubblico o su quel territorio quelli dati esami o quelle date terapie. Ma questa è una decisione che aspetta il genitore. Se il genitore decide di spendere dei soldi per una terapia è giusto che lo possa fare. Se decide di sfruttare quello che c'è nel luogo è giusto che lo possa fare. Se decide di trasferirsi in un'altra regione per accedere a delle terapie che sono accessibili in quella regione è giusto che lo possa fare. È una scelta loro. Quindi date informazioni, datele contatto, ma datele. Grazie.